Guardate quanto schieramento di camionette della polizia! A Piazza del Papolo c'erano centinaio di persone, a Piazza Santissimi Apostoli c'erano quante persone? 300-400 persone stanno cercando di separarci, anziché invece dobbiamo essere uniti! Il Piazza dei Sottotitoli Parra di Sottotitoli Parra di Sottotitoli Si ripetono le campanze le regole e le divino, salvo l'ambiente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.